Siamo arrivati a un giorno, quando l'abbiamo lasciato. Coggi, buonasera. Buonasera. Tutto a conto? Ma la neve, questa, non dove si vuole la neve? La neve, la caporale. Quando ce ne avevo dato una. E lo sai? Ma questa, ma quando se ne va a tirare la famiglia? E quando si è fatto il buio. Ma quanto dura? Il buio, questa è la prossima. E questo è il buio, fino alle vostre mese. Buono, formate la chiesa, no? Buono. Poi vi comprate un'altra squadra. Un'altra squadra che fa il giro dalle tre parti, che è da Bagnoli, dalla Sassa. Noi ci comprate. E' da le sere. Dopo se compro, allora ci compriamo la Sassa. Dopo le sere, qua c'è il vostro mese. E' da le sere, qua c'è il vostro mese. E' da le sere, qua c'è il vostro mese. Eh? No, perché siamo, qua c'è il vostro mese. Devi fare, qua c'è la persona. E' da le sere, qua c'è il vostro mese. Onde stai qua? Ecco, qua c'è. Ecco, qua c'è. Ecco, qua c'è. E' da le sere. No, perché? Non mi ha dato la cera, ma quest'anno si è affassata di qui. No, ho visto che stia parlando. E' da me, ma che sono tutti amici. Basta. Basta. Se la manata partita, ti dovi messi pagliuno. Come no? Tanto che ci possa portare fortuna. Capito. Io veramente la fortuna non so mai di nulla. Io lo tengo. Un boccolo. Buona serata. Grazie di tutto. Sì, sì. Sì, sì. C'era, c'era. No, tu ti stai di spiegare per me e io, non... Non posso dire a me io. Oui, no, non. Oggi lo... Oggi Vessi. Vessi. È soprattutto là, initiate di la perfezza per la luce.